ragazzi buongiorno e benvenuti in un nuovo tutorial di the legend of zelda tears of the kingdom abbiamo completato tutti e 152 sacrari del gioco compresi tutte le le ceste i 120 che sono in superficie e 32 che sono sulle isole del cielo in questo video vedremo tutti e 120 i sacrari che si trovano sulla superficie di rule vedremo la mappa punterò i sacrari uno ad uno così potete leggere il nome mettete in pausa se vado troppo veloce mentre in descrizione ci sarà la lista in ordine alfabetico con il link alla guida di ogni sacrario naturalmente ragazzi come al solito se il video vi è piaciuto o vi è stato d'aiuto e lasciate un like aiutate tantissimo il canale ma adesso vediamo la mappa con tutta la lista grazie a tutti 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 grazie a tutti